Ciao a tutti ragazzi e ragazze, siamo qui sul canale con un nuovo spacchettamento di Pokémon, come di consueto. Oggi il box è della nuova espansione Spada e Scudo Colpo Fusione, il primo box di questa espansione che abbiamo visto che è appena uscita. È arrivato Reiki, come al solito abbiamo diviso il box in due, io e Davide abbiamo scelto una busta a testa, quindi 18 bustine a testa. Vediamo chi troverà più speciali. Ok ragazzi, questi sono i punti che andremo ad assegnare per le varie carte trovate. Ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella e partiamo col video. Inizio io ragazzi, inizio io vai, partiamo in bellezza. Eh, chiusa bene, chiusa bene. Non mi fa a te nessun senso, era bello. Vabbè, in caso di pareggio le Olo decideranno, chi ha più Olo vincerà. Non so se stai sti cari. Bello sto cuore, è quello che avevo visto. Bello, bello. Do cazzo è bello? Dai, 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 andiamo a prenderci qualcosa. Bagnato Fradicio. O le altre Olo? Eh, la Madonna quanta roba c'ha. Facciamo la gara di Olo sto cuore. Minchia. Oh, bello. Ho un avvio, quindi un punto per Davide che passi a vantaggio. Ciao, dobbiamo andare in pareggio però qua, va bene. Dai, Genesect, portaci il pareggio su. Secondo le Olo? Cioè, io devo sperare di pareggiarmi almeno così, a livello di Olo vinco. Oh, mi sto rompendo ai pacchetti, dovete tirar fuori. Dai, boi al Thund, confido in te. Ciao, boss, ciao, ciao. Sì, è V sicuramente. Vediamo l'altra volta. Olè! Ma che culo, ragazzi. Punti per Davide. C'è, uno più uno. Intellion. Intellion V. È V perché è rovinata. Non l'ho toccata, però sono sicuro. Ma dai, ma che cazzo. Sono tutte cazzo rovinate. Cioè, io... Sono uno spoiler. Ehm, mi acceco. Vabbè, loro non lo sanno. Uuuuh, Genesect. Trova uno, recupero il piano. Sì, però, non lo so. Non lo so, non lo so, non lo so. Che lingueia, scusa. Non è bella. Non è bella di Intellion, sicuramente. Sì, esatto. Beh, Vortus non è bello, ma rispetto a Intellion. Box vuoto, box vuoto. Niente. Non tocco. Oh, aspetta, vedo bella io. Ma dove? No. Che cazzo dici? No, anche quella di prima bella va sotto. Non c'è un cazzo. No. Mi sono illuso, ho visto bella e ho detto no. Oh, io ho bella bella. Che sono fatte male, sono fatte malissimo. Questa è mia? Come sapete voi che cazzo mi date? Io lo so. Io ho appunto. Io ho fatto simico. Simico. Niente, niente, niente. Niente, vuoto, vuoto. Ce l'ho azzeccato col Dina? No. Forse, sai che ne ha due dentro sto box? Cioè, dentro sto box. Ma che cazzo dici? Una sicura. Ma come può essere? Forse, forse ne ha due. Eh sì, se ne ha due, va. Ce l'ho giro. Perché anche la penultima mi è sembrata abbastanza... Minchia, se non ha nessuna frase, scappa. No, una sicura. Scappa perché, Dio caro, ti rincoro. No, ok. Oh! Chico Spaghetto e Maisel. Allenatore? Figo. Bella cazzo, allenatore eh? Sì. Quindi cosa mi ha messo? Chico Spaghetto? Spaghetto! Spaghetto! Che cazzo! Alla patriciana! E Maisel. E allenatore ha due punti. Quindi vado in vantaggio. Attenzione. Due più uno, tre. So anche la matematica. Quindi tre a due per me. Ma se che non bossi sta rubando tutto il calore. Spero ti vada a fuoco il culo. Ti vada a fuoco il culo. Oh mio Dio. Un altro. Alte oro, giusto. Dai, ma non c'è un cazzo sto box. Ma io ho cinque. Eh, giù io ho quattro. Quindi adesso tocca a te. Dai, qui hai sentito qualcosa? No, a parte che spero, io non assumo. Penso sia una roba. Masso. Si ci ha pensato un attimo. Poi ha detto, ah, ora. No, non c'è. Ma cosa vuol dire? Ma cosa vuol dire una gold? Così a caso? No, vabbè, fa cagare perché l'energia però. Vedi, avevo percepito io. No, frate. No, ma oh, non va. C'è una gold del cazzo. Eh, boh. No, la minchia figa. Tutti io le ho trovato. Oh, raga, ma tutti, veramente, tutti lui le ho trovato. C'è una cazzo di calamita di Occare. Sì, perché? Perché qua al centro non gratta come le altre gold. Ciao, ciao, ciao. Quindi va in vantaggio Davide con 4 punti più gli altri due che aveva, 6 punti per Davide. Io resto a 3 punti. Niente, però l'ultimo colpo è qua. Vimax la dichiaro. Qua dentro c'è una Vimax. Hai comunque perso? No, perché il doppio colpo se la becco sono 4 punti e vinco io. No, vabbè. L'hai detto, impossibile. Secondo te in quale è che c'è qualcosa? Beh, dai, in altra ola. Dichiaro la Vimax. No, niente. No. Sconfitta per me. Magari mi ha mentito, c'è qualcosa. Non ti piacerebbe. Sì. No. Volevi. E' questo per pareggio, doppio. Ciao, ciao, ciao. Cioè, è la Vimax qua, guarda. Non c'è la Vimax? Minchia, penso sia uno dei box peggiore che avevamo mai aperto, sai? Sì, no, esatto. No, una volta sì. Una volta sì. Quello che avevate fatto in estate da soli. Eccoci a recap. Queste sono le 5 speciali che abbiamo trovato. Sopra vedete quelle di Davide, compresa la Golda, che stava sempre lui. E sotto le mie. Un po' fiacco questo box rispetto agli altri che abbiamo portato. Speriamo di far meglio il prossimo. Di aver più fortuna. Finisce qui il video con la mia vittoria. Sì, dai, l'altra volta ho vinto io la lasciamo questa, dai. Se volete supportarci e se il video vi è piaciuto lasciate un like. Supportarvi. Passate da Instagram per foto dei video e della nostra vita in generale. Il prossimo video, ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie.